Tanti attori, diverse competenze, differenti provenienze che si incrociano ed un unico obiettivo, la promozione in chiave internazionale del grande patrimonio storico del comune di Tursi, della sua cultura millenaria e di un luogo in particolare, simbolo dell'incontro tra popoli, la Rabatana. E proprio gli investimenti futuri e le prospettive sulla Rabatana, dalla civiltà mediterranea ed europea fino ad Expo Dubai 2020, che vedrà anche la partecipazione della cittadina materana, è stato il tema dell'incontro promosso dal Gal Start 2020 Matera Orientale Metaponto e dal comune di Tursi. Un incontro nel corso del quale è stata assegnata anche la cittadinanza onoraria a Giovanni Oliva, direttore generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, al quale hanno partecipato gli studenti che rappresentano, si è detto, il presente e il futuro della loro terra. Numerosi gli interventi, tra storie di eccellenze, progetti già realizzati e programmazioni future, per una terra vergine capace di sostenere tantissime tipologie di investimento, come ci ha detto Yashim Yussein, direttore generale dell'Unido Bahrain, l'organizzazione per lo sviluppo industriale delle nazioni. Questo convegno sta a significare il ritorno degli amici del Bahrain e anche degli amici della Polonia, perché ci sono per il futuro dei progetti importanti per la Rabatana, per la città, per il santuario di Anglona. Oggi loro diranno molte cose importanti su quelli che saranno i progetti. Anche su San Francesco abbiamo la FEM che sta interloquendo con gli amici investitori del Bahrain proprio per farci lì un grande contenitore di formazione per imprese, piccole e medie imprese, soprattutto per le donne.